Allora ragazzi, attenzione. Abbiamo scoperto una rarissima specie di Merendonas atuominus in questo nuovo episodio di Sbattilas Geographic. Andremo a incontrare questa nuova specie. Allora, questa specie è una specie che vive principalmente nel centro nord italiano e si chiama... deriva il suo nome da Merendonas perché è una sottospecie del lupo che si nutre esclusivamente dello sperma delle sacche scrotali dei bambini al di sotto del giotto Ancolo è una specie molto docile ma che è molto facile da spaventare, quindi provo ad avvicinarmi con lentezza e sperando... Allora, la sua seconda forma di nutrizione, nutrimento, la ottiene dai modellini, di cui è veramente ghiotto. Wow! Era alto più di tre metri. Provo ad avvicinarmi e sperare che mi scappi via. Ehi, guarda, modellini, guarda. Alter 2. Mi ha preso la mano, mi ha preso la mano. Attenzione, questo è un momento incredibile nella storia del nostro programma, me lo sta baciando. Ah, e un'altra caratteristica di questo animale è la sua frociaggine. Wow! È molto omosessuale. Davvero? Infatti, mi si può attirare fuori da questo buco con la cosa del fisello. Se te ve lo fai vedere così, lui esce anche dalla... Incredibile! Vediamo... Guardate, funziona! Ha ragione! È assurdo! Ecco, guardatelo qua. L'abbiamo nella luce. Ecco, tutto nel suo splendore. Guardate, osservatelo. Questa bestia. È distratto dal pene, ragazzi. Possiamo osservarlo per bene. Ecco, guarda. Questo esemplare è particolarmente docile. Incredibile. Guardate, lo sta accudendo. Ti lascia accarezzare. Sì, sì. Una cosa del genere non mi era mai capitata. Non so... Non so lei quanti programmi ha fatto il cameraman, ma... Io non so neanche dell'esistenza di questo essere. Incredibile. È una specie molto rara. È un incontro veramente magico quello che stiamo avendo. Ma è tipo... cioè nasce da un incrocio di animali? Da cosa nasce? Sì, nasce dal branchilosauro finocchio che si incrocia con il lupo minchiamico della sud-est campana. Ah, lo conosco, lupo minchiamico. Ne ho visti diversi esemplari. Sì, sì. Sono molto terribili. Infatti la bestia è eredita da questa, il ciuffo, che è molto ispido, come potete notare. Guardate il pelo. Il pelo è molto ispido. E poi questo tipo di abbigliamento che è il perfetto incrocio tra il Marantinus autibilus e appunto il genitore del Merendonas, che è proprio appunto il lupo campano di cui parlavamo prima. Incredibile, ragazzi. E abbiamo anche sentito dire che dove ci sono questi esemplari ci sono a volte anche degli esemplari di Paolinus. Come si chiamano Paolinus? Paolinus Auchibirus. Auchibirus, è incredibile. Ora sta cercando di attaccare la mia minchia, appunto. Ma l'attacca? Cioè, la vede come una preda? Sì, no, ma è un erbivoro. Cioè, la vede come un frutto, si scipa di minchie questo animale. Ma incredibile. Ma, cioè, l'albero di minchie? Eh no, lui è pericoloso, infatti bisogna stare attenti perché lui ne priva agli altri animali a causa delle gravi ferite agli altri animali. Però non è in grado di cacciare, quindi, perché è erbivoro. No, infatti... Cioè, si avvicina di nascosto e... Sì. O nella notte oppure dalle carcasse, infatti lo si nota dal suo odore tremendo, infatti sto avendo un po' di difficoltà. Sentite l'odore da casa? Mi avvicino un pochino, potete sentire l'odore. Lo sentite? Ecco, perfetto. Bene. Bellissimo. E c'è una macchina che se è chiusa potrebbe esserci dei rinforzi, invece no, non fanno parte forse... Ah, invece sì, abbiamo l'esemplare di... come si chiamava? Paolinus Auchirivirus. Paolinus Auchibirus. Eccolo, che l'abbiamo nominato prima. Adesso... Guardate, si è alzato, così in piedi la bestia. Ok, la bestia... Forse potremmo assistere a un incontro incredibile di due bestie... Oddio, ci allontaniamo perché forse potrebbero lottare. Ok, questa è una bestia molto, molto più violenta, infatti voglio tenermi a una devita distanza. Come fa quel verso? Allora, quel verso lo ottiene da una speciale ghianda che si trova al di dietro della gola. Ecco, ha fatto scappare il Merendones, forse cercano di mangiarsi l'un l'altro. Ma lui è carnivoro? Sì, il Paolinus è carnivoro. Mentre il Merendones infatti si ritrova nel suo... Sta adottando una strategia. Ok, possiamo notare che il Paolinibus ha iniziato la sua danza predatoria. Assurdo. Infatti, lui utilizza questi movimenti laterali. Ecco, adesso sta mostrando i denti per dimostrare la sua potenza. Ho capito. Ok, ha partito l'appacco. Guardate, guardate. Ok, c'è uno scontro in atto, c'è uno scontro in atto. Si stanno scontrando, ragazzi. Ok, ok. Potrebbe... Queste bestie stanno danzando... Ragazzi, che è successo? Oddio, abbiamo visto un esemplare di Paolinus che stava attaccando... come si chiamava? Merendo... Il Merendones o Kibri. Oddio, è pericoloso! Sì, è pericolosissimo! Sì, è andato di là, scomparso dietro quelle colline da giù. Eccolo, è tornato il nostro esemplare. E allora si è ancora fatto. Il Paolinibus forse è stato ingannato. Sì. Chissà che succede qui. Bellissimo! E questa era... no, niente, concludi te la puntata, aspettate... Quindi, oggi abbiamo incontri di magnitudo incredibile. Abbiamo incontrato delle bestie rarissime. Tutte nel solito colpo, incredibile. Abbiamo assistito anche a una caccia. È una preda che corre per la propria... Ma c'è un altro animale va accanto, no? No, quello è solo Alberto. Io concludo la puntata di oggi di questo bellissimo programma. Non so se conviene inquadrare, però insomma... Quella è la sua arma, diciamo. Sì, è con cui nutrirò il merendone. Wow! Ah, quindi si dedicherà anche alla nutrizione degli animali che incontreremo in questa... Sì, penso che questo lo adotterò. Che carina! Infatti il proprio bellino si è lasciato accarezzare, eh! Ma che bel finale! Guarda, si riavvicina, guarda! È una caccia di minchia, però... Ti piace, eh? Si vede proprio! Va accarezzato in questa scena! Vabbè, linea allo studio! Linea allo studio, ragazzi! Grazie! Grazie!